Anche se il 19 aprile 2005 Joseph Ratzinger non fosse stato eletto al soglio pontificio, ne staremo comunque parlando di una delle più note e rilevanti personalità della Chiesa, ma anche del mondo occidentale, a cavallo tra il XX e il XXI secolo. Gli otto anni di pontificato, oltre naturalmente all'inedita rinuncia, ne hanno semmai ampliato la notorietà di questo timido allora cardinale tedesco, Joseph Ratzinger, che ha avuto un'importanza significativa, nonostante non avesse mai, per così dire, bucato lo schermo. Talvolta è stato anche sottovalutato, criticato in base a criteri puramente televisivi, eppure per chi ha avuto la pazienza di ascoltarlo o di leggerlo ha fatto qualcosa di più. Ha aperto una breccia in un mondo, in un pensiero, una mentalità occidentale che tende a rinchiudere la fede nella dimensione puramente soggettiva ed emotiva e la ragione in un razionalismo che limitandosi solo al calcolabile, al misurabile, ha finito per evitare il confronto con il mistero, eliminando realtà che certamente non sono misurabili, come la bellezza, l'amore, l'arte, ma che non di meno sono altrettanto evidenti delle verità scientifiche. A questo rischio lui contrappone un allargamento, sono parole sue, del nostro concetto di ragione e dell'uso di essa. Una ragione dunque allargata alla bellezza, all'arte, all'amore e così via, che è un possibile filo conduttore, non naturalmente l'unico, per cogliere qualcosa della complessità del suo pensiero. Ma attenzione, complessità non vuol dire difficoltà, questo è un altro fraintendimento comune, sia perché, chiaramente, essendo un professore, è abituato ad esporre le cose nella maniera più lineare possibile per gli studenti, mentre noi immaginiamo sempre un topo di biblioteca, chino su qualche oscura biblioteca nordica, abbiamo sempre questa ingiusta diffidenza verso tutto ciò che è tedesco, come dimostra un simpatico episodio di una signora che dopo una mia conferenza richiese molto entusiasta chi fosse l'autore che avevo citato, perché voleva leggerlo, insomma, e quando risposi di Josef Ratzinger calò l'entusiasmo, ma io non volevo una cosa difficile, ma come? Non hai manco letto e dici è difficile, è un po' una cosa istintiva, ma in realtà la Germania di Ratzinger è tutt'altro che oscura, e questo ci offre lo spunto per partire da quella baviera festosa che gli ha dato i Natali e che ne ha, per così dire, plasmato l'animo e il pensiero. Ne ricorda lui stesso più volte il profumo che emanava dai tappeti di fiori e dalle betulle verdeggianti, per esempio in un bel ricordo della festa del Corpus Domini, vissuta proprio come una festa di villaggio con la banda, i fiori, le bambiere, i canti, è in questo humus che Josef Ratzinger nasce a Marktham Inn il 16 aprile 1927, un sabato santo, coincidenza che lui ricorda sempre come un importante segno premonitore. Terzo dei tre figli di Josef, suo padre si chiamava come lui, e di Maria Rieger. I due fratelli maggiori erano Maria, anche lei come la madre, e Georg, più noto, scomparso l'anno scorso, anche egli divenuto sacerdote, ordinato insieme a lui il 29 giugno del 1951, a cui sono stati tutti e tre legatissimi questi tre fratelli, l'ultimo superstite dei quali è appunto Josef Ratzinger, benedetto XVI. Alfred Ratzinger, un teologo che fu il loro professore in seminario, vi ricorda come, così venivano chiamati anche dagli altri studenti, Orgel Ratz e Bücher Ratz, vale a dire il Ratzinger dell'organo e il Ratzinger dei libri, vale a dire il nostro. Ma anche il Ratzinger dei libri, sin dall'infanzia, respira la musica con l'arte e la liturgia, lo ricorderemo, ha un ruolo fondamentale, la respira in casa, in chiesa, specie nel periodo vissuto a Trondstein, vicino al confine con l'Austria e con la mozartiana Salisburgo. Scrive, io sono di casa vicino a Salisburgo, quindi abbiamo avuto molta musica, Mozart, Schubert, Haydn, e quando cominciava il Kyrie era come se si aprisse il cielo. E ricorda anche le passeggiate nei boschi e la liturgia, spiegata già a partire dal sabato pomeriggio dal padre, che leggeva loro le letture per cominciare a entrare nel clima della domenica. Questi ricordi idilliaci offrono degli squarci sulla vita familiare dei Ratzinger e spiegano la personalità del futuro Papa molto meglio di dettagliate note biografiche, che questo spazio non ci concede, sarebbe troppo lungo, emerge soprattutto l'importanza evidenziata da Plinio Correa di Oliveira degli ambienti e delle arti per la formazione delle persone e delle società. Lo stesso Benedetto XVI riconosceva che, pensando al paradiso, gli è capitato sempre di avere in mente qualcosa di simile al tempo della sua giovinezza, della sua infanzia. Questo sguardo contemplativo che poi sarà sempre presente nell'itinerario del futuro teologo, cardinale e Papa, e che emerge anche in piccoli dettagli, come quello della sua ordinazione, in cui racconta nel momento in cui l'anziano arcivescovo von Fallauer impose le mani su di me, un uccellino, forse una lodola, si levò dall'altare maggiore della cattedrale, come a dire va bene così, sei sulla strada giusta. Nei decenni successivi, come sappiamo, il suo percorso è prevalentemente accademico, l'Università di Monaco, Münster, Tubinga e Ratisbona. Il Concilio Vaticano II lo vede a Roma come perito del cardinal Frinz e in tale veste ha l'occasione di riprendere l'argomento dei suoi studi, cioè il concetto di rivelazione in San Bonaventura rispetto a una diffusa identificazione tra rivelazione e scrittura to court, cioè che limiterebbe la rivelazione al solo libro, per intenderci. Lui spiega che nel linguaggio medievale una tale identificazione sarebbe stata impensabile. In esso, infatti, nel linguaggio medievale e quindi di San Bonaventura, la rivelazione è sempre un concetto di azione, mentre ipotizzare il contrario, cioè far finire la rivelazione con la sola scrittura, ha portato a ritenere che la Chiesa non potesse insegnare nulla che non fosse espressamente rintracciabile nella scrittura. Lo schema viene redatto insieme a Karl Rahner e dalla collaborazione tra i due emerge anche la profonda differenza di prospettive che lo porta a ricordare che certamente erano d'accordo su molti punti, altrettanto certamente, scrive, vivevamo su due pianeti diversi. Così come in quegli anni, e anche di fronte agli sbandamenti postconciliari, emerge la consapevolezza di quel Consilsungeist, come ricorda nel libro intervista con Vittorio Messori, cioè un cattivo spirito del concilio che ispirava in molti la pretesa di rifare la Chiesa da zero, di fare tabula rasa e creare qualcosa ex novo che non sarebbe stata più la realtà di prima. Nel 1977 giunge in attesa la nomina ad arcivescovo di Monaco e Frisinga e la creazione cardinalizia. Lui ricorderà questa ed altre sorprese con l'immagine dell'orso di San Corbiniano, patrono della diocesi, immagine presente nel suo stemma. In pratica il santo, durante il viaggio che lo portava a Roma, si imbatté in un orso che sbranò il suo cavallo. Allora Corbiniano rintroverò l'orso e lo costrinse a fargli da cavalcatura fino a Roma, dove poi lo lasciò libero di andarsene. Ma ricorda Ratzinger, l'orso fu lasciato libero. Nel mio caso il padrone ha deciso diversamente e così sarebbe stato più volte anche per l'inattesa chiamata al pontificato. Ma a cominciare da quella convocazione a Roma che si sarebbe protratta per più di vent'anni, quando il Papa San Giovanni Paolo II lo vuole accanto a sé all'inizio degli anni Ottanta come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ruolo cui continua ad affiancare anche quello di studioso e di conferenziere, e ruolo che dà origine anche a una complementarietà e una sincera amicizia tra il Papa filosofo e il Cardinale Teologo. Oltre al lavoro ordinario del di Castero, Giovanni Paolo II gli affida anche la realizzazione di uno dei principali lasci del suo pontificato. Ratzinger presiede infatti la commissione incaricata di redigere il Catechismo della Chiesa Cattolica. E sempre a lui saranno affidati poi due atti decisivi dell'anno giubilare 2000, la rivelazione della terza parte del Segreto di Fatima e la dichiarazione Domini Jesus circa l'unicità e l'universalità salvifica di Cristo e della Chiesa. Il primo aprile 2005 Giovanni Paolo II è in avoglia. Ratzinger rientra in fretta per l'ultimo saluto da Subiaco, dove aveva tenuto una conferenza sull'Europa nella crisi delle culture che significativamente si concludeva proprio ricordando che Benedetto da Norcia in un tempo di dissipazione, di decadenza sprofondò nella solitudine più estrema, riuscendo dopo tutte le purificazioni che dovette subire a risalire alla luce, a ritornare a fondare a Monte Cassino la città sul monte, che con tante rovine mise insieme le forze dalle quali si formò un mondo nuovo. E' una coincidenza curiosa proprio alla vigilia della morte del pontefice polacco che aveva dedicato uno dei suoi ultimi gridi accorati in difesa delle radici cristiane dell'Europa, che il continente stava disconoscendo anche in via ufficiale e il fatto che poi dopo neanche venti giorni al termine del successivo conclave sarebbe stato proprio Ratzinger ad affacciarsi dalla loggia centrale di San Pietro col nome pontificale di Benedetto richiamo al Papa Benedetto XV ma anche a San Benedetto da Norcia uno dei suoi primi atti già nel 2005 la pubblicazione del compendio ovvero di una versione ridotta a domande e risposte del catechismo della Chiesa Cattolica portando così a compimento l'opera del suo predecessore nel primo Natale del suo pontificato in occasione del tradizionale discorso alla Curia Romana Benedetto XVI affronta il tema dell'ermeneutica del concilio Vaticano II rispetto alla diffusa tendenza a fare tabula rasa del passato e a segnare una cesura tra il pre e il post concilio lui ricorda che la Chiesa è tanto prima quanto dopo il concilio la stessa Chiesa una santa cattolica e apostolica in cammino attraverso i tempi al tema dell'ermeneutica conciliare è legato anche quello che gli è particolarmente caro della liturgia in particolare della coesistenza tra il messale antico che continuava ad essere in uso già grazie all'indulto concesso da San Giovanni Paolo II e poi ampliato da lui e quello riformato da San Paolo VI in seguito al concilio e ancora più in profondità il tema riguarda l'essenza anzi lo spirito della liturgia a cui aveva dedicato uno degli ultimi libri poco prima del pontificato rifacendosi sin dal titolo al teologo italiano tedesco Romano Guardini nel 2007 dunque con il motu proprio sul morum pontificum restituisce piena cittadinanza all'antico messale come forma straordinaria dell'unico rito romano sia perché come lui stesso evidenziava giovani persone vi scoprivano vi scoprono una forma particolarmente appropriata di incontro con il mistero e sia perché ciò che per le generazioni anteriori era sacro anche per noi resta sacro e grande non può essere improvvisamente proibito o addirittura giudicato dannoso e fa bene a tutti sottolineava in otto anni di pontificato ci ha lasciato tre encicliche Deus Caritas Est Spe Salvi e Caritas Inveritate alle prime due dedicate rispettivamente all'amore e alla speranza si può aggiungere idealmente per completare il trittico delle virtù teologali la Lumen Fidei avviata da lui ma poi promulgata dal successore Francesco nel 2013 nella prima quella dedicata all'amore la Deus Caritas Est supera la contrapposizione tra Eros e Agape parlando addirittura di un Eros divino che è insieme totalmente agape Dio è in assoluto la sorgente originaria di ogni essere ma questo principio creativo di tutte le cose il Logos la ragione primordiale è al contempo un amante con tutta la passione del vero amore nella Spe Salvi dedicata al tema della speranza affronta tra l'altro le trasformazioni della speranza nel tempo moderno magari sperando nell'instaurazione di un mondo perfetto che però poteva al massimo valere per gli uomini di dopodomani oltre alle speranze più piccole quotidiane di cui abbiamo bisogno ma che non possono sostituire la grande speranza e nella Caritas in Veritate si riallaccia alla prima per ribadire che senza verità l'amore diventa un guscio vuoto da riempire arbitrariamente e il cristianesimo diventerebbe una riserva di buoni sentimenti ricordando che sempre non solo in queste encicliche che all'origine di tutto non c'è una decisione etica o una grande idea ma un incontro concreto con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva questo incontro a tu per tu è espresso particolarmente nell'esperienza di San John Henry Newman grande convertito e poi cardinale inglese particolarmente caro a lui come emerge anche dal fatto che abbia voluto celebrare personalmente contrariamente alla Prassi la beatificazione e non a Roma ma recandosi appositamente in Inghilteppa nel 2010 il motto di Newman è appunto cor ad cor loquitur il cuore parla al cuore esprime sono sue parole l'intenso desiderio del cuore umano di entrare in intima comunione con il cuore di Dio Newman così lo descrive Benedetto XVI vide chiaramente che non dobbiamo tanto accettare la verità come un atto puramente intellettuale ma accoglierla mediante una dinamica spirituale che penetra sino alle intime fibre del nostro essere sono solo pochi cenni quelli che abbiamo offerto finora resterebbero ancora innumerevoli spunti di riflessione rinfracciabili tanto nella sua opera di studioso quanto nel suo magistero pressoché impossibili da trattare vale la pena però concludere con un filone che traspare in maniera costante fino a costituire un piccolo corpus è il filone della via pulcritudinis la via della bellezza è parte integrante del concetto di ragione allargata citato in apertura una ragione diceva che in qualche modo volesse spogliarsi della bellezza sarebbe dimezzata sarebbe una ragione accecata l'amore per la musica e per la bellezza del creato che come abbiamo visto è stato assimilato in famiglia sin dalla più tenera età riaffiora sempre sotto traccia per coagularsi di tanto in tanto in alcuni discorsi per esempio nel corso dell'udienza generale del 18 novembre 2009 ricordava le bibbie di pietra i capolavori della fede realizzati nei secoli medievali la forza dello stile romanico lo splendore delle cattedrali gotiche come un percorso privilegiato e affascinante per avvicinarsi al mistero di Dio ancora incontrando gli artisti lanciava loro quasi una benevola sfida non abbiate paura di confrontarvi con la sorgente prima e ultima della bellezza la fede non toglie nulla al vostro genio alla vostra arte anzi li esalta e li nutre li incoraggia a barcare la soglia e a contemplare con occhi affascinati e commossi la meta ultima e definitiva il sole senza tramonto che illumina e fa bello il presente grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti